forse si alza la nebbia speriamo che tempo da lupi non lo so vediamo al culmine decisamente shiboroki un po' più vicino che sta finita ma l'ho scoperto una cosa non mi va più il fondo da parte cazzo qua e qua è lì dai è lì Sì 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 Ok Mi sa che la traccia non è questa Sì Dove i cazzi Sì 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 Andiamo a giocare di qua che è molto esposto ripido e scivoloso è ripido e scivoloso